E' uscito così il nuovo aggiornamento Windows 11 versione 23H2 e il capo AB5043145. Se tu hai scadicato l'aggiornamento e l'hai provato a installarlo e non funziona, puoi semplicemente andare su cronologia degli aggiornamenti, disinstalla così gli aggiornamenti e ricominci di nuovo da capo, quindi riscarica e reinstalla. Quindi se non dovesse funzionare possiamo andare direttamente su questa cartella qua, esplorare le risorse file, questo pc, il disco locale c, vai su Windows. Scendi fino a giù fino a trovare il software Distribution, Download. Qua ci sono tutti gli aggiornamenti che fai anche su Windows Update, quindi ti consiglio di cancellare così questa cartella e riprovare a riscaricare gli aggiornamenti su Windows Update. Quindi basta che la cancelli, tasto destro sopra, e fai, elimina così la cartella. Se non dovesse bastare puoi andare direttamente su Servizi, riattivare così il servizio di Windows Update, se in questo caso è in arresto, quindi Windows Update, ed eccolo qua. Stato il servizio è in esecuzione, puoi interrompere così questo servizio, adesso è arrestato e lo proviamo di nuovo ad avviarlo. Tipo di avvio, metti automatico e fai applica e fai ok. Quindi riprova di nuovo ad andare su Windows Update, fai verifica disponibilità aggiornamenti e quindi scarica di nuovo l'aggiornamento. Ovviamente se non riesci a scaricare così questo aggiornamento, è possibile andare su risoluzioni, quindi impostazioni, risoluzioni, problemi, altri strumenti di risoluzioni. E andiamo su Windows Update e vediamo qual è il problema che ostacola così questa installazione sul nostro sistema. Poi se non dovesse bastare puoi semplicemente andare sul sito della Microsoft, puoi andare semplicemente sul sito della Microsoft, quindi scarichi di nuovo da capo Windows 11, però mantenendo tutti i file. Quindi devi solamente scaricare e installare il tuo sistema operativo Windows 11 all'ultima versione, vai su scarica ora, scarichi e installi così Windows 11 e se ti dice di eliminare tutti i file, tu metti no, mantieni i miei file. Così quando hai reinstallato da capo Windows 11, hai ancora tutti i tuoi file sul tuo computer. Verifica la presenza di problemi Windows Update, quindi facciamo no il problema è stato risolto, facciamo no e basta. Quindi ritorno su verifica disponibilità aggiornamenti, faccio scarica e installa. Facciamo attiva. Ovviamente se non dovesse bastare, se non riesce a installarlo automaticamente puoi farlo manualmente. Quindi in descrizione ti ho lasciato anche il catalogo di Windows, quindi Microsoft Update catalogo ed ecco lì qua. L'aggiornamento che dobbiamo scaricare e installare è questo qua. Versione 23H2 per i sistemi basati su Per64, il KB5043145. 756 MB di aggiornamento. Faccio su Download. Basta che il file finisce come .msu, scarichi e installi l'aggiornamento manualmente. Una volta fatto, devi riavviare il tuo sistema operativo e hai concluso, hai installato manualmente il tuo aggiornamento. Ovviamente mi sta ancora scaricando, quindi per ora sta andando bene. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao